Arisa ha lanciato una sfida ai suoi allievi Wax e Krikka Amici 22. Ma sembra che abbia fatto una scelta sbagliata. Arisa crede che Wax sia originale e bravo a tenere il palco. Mentre Krikka non si distingue dalla massa. Quindi, ha deciso di farli sfidare su una canzone di Daniel Pouter intitolata Bad Day per dimostrare che Wax può comunque trionfare con la sua originalità. Tuttavia, Wax appare demoralizzato e in difficoltà nel cercare di rendere la canzone sua. Al contrario, Krikka sembra più a suo agio con la canzone. Gli spettatori sono entusiasti della complicità tra Wax e Angelina. Ma lei si è già dichiarata fidanzata. È ancora da vedere quale sarà il risultato finale della sfida di Arisa e se abbia azzardato troppo.